Ti andrebbe di uscire a bere un bel caffè? No, guarda, preferisco leggere un buon libro. E perché non fare entrambe le cose? Il conubbio perfetto Caffè e Libro sta spopolando nella capitale britannica tanti bar, biblioteca o library coffee che puoi trovare a Londra. In questo video ti parlerò dei 5 tra i migliori bar, biblioteca più accoglienti di tutta Londra. Ma prima, sigla! The Fable Si trova al 52 di Holborn Viaduct ed è ispirato al mondo fantastico delle fiabbe e favole di Esopo. L'accurata attenzione a dettagli e l'atmosfera suggestiva rendono il bar e biblioteca tranquillo e confortibile. Che sia una sosta lunga o un veloce aperitivo, potrai sempre goderti un buon libro o cenare tra i libri. La caratteristica che rende unico il locale è proprio il tavolo a pranzo o cena circondato da una cascata di libri impilati. BFI Bar & Kitchen Il centro culturale perfetto. Qui potrai pranzare, fare una semplice pausa a caffè o un aperitivo. Ma intanto, osserva lo scaffale di libreria finto. Altri non è che è una porta che ti conduce ad una stanza segreta con poltrone, libri e bar. Questa stanza viene chiamata la Drawing Room, ossia il perfetto distacco ed il perfetto bar-biblioteca in cui poter trascorrere un piacevole pomeriggio. La Bio Kist Si trova al 19 di Baby's Marks ed è un locale molto particolare. È noto per la creazione di nuovi cocktail con il tuo alcolico preferito. Tu porta la tua bottiglia e da quella barman specializzati ti stupiranno creando un drink su mismo rapetti. The Cinnamon Club Ex sala di lettura della biblioteca di Westminster È adesso un elegante e raffinato ristorante indiano attorniato da libri di ogni categoria. Insomma, dalla buona tavola del ristorante al café de bar biblioteca. Electric House Sulla Portobello Road ecco un private members club con un raffinato e posh camino. Questo è un bar-biblioteca molto intimo che dà la possibilità ai suoi soci di accomodarsi in un ambiente di gran classe, con una biblioteca sotterranea piena di libri e di vinili d'autunne. Il grande geradischi al centro della sala permette di ascoltare musica raffinata e accuratamente selezionata. Drink, libro ed eventualmente camino. Cosa chiedere di più? Se questo video ti è piaciuto metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube oppure se lo stai guardando da Facebook metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao! Ciao!